Convalidato l'arresto di Elio Greco, la polizia di Ragusa lo ha arrestato, l'uomo è accusato di tentato omicidio e porto illegale d'arma da fuoco. L'arresto del pluri pregiudicato vittoriese, noto agli inquirenti quale esponente di spicco della criminalità organizzata con interessi ingenti all'interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria, specificatamente al settore degli imballaggi, è avvenuto al termine di serrate indagini condotte dalla procura di Ragusa a seguito del tentato omicidio e danni di Raffaele Giudice, consumato la sera del venerdì santo. Nonostante il tentativo della vittima di depistare le indagini, raccontando ai medici del pronto soccorso una versione falsa dei fatti accaduti, l'intuito e la conoscenza dei soggetti coinvolti hanno spinto le forze dell'ordine sulla strada giusta. Greco ha sparato a giudice dopo una lite scaturita per motivi economici. A riferire ai fatti è stato direttamente il pluri pregiudicato che si è costituito alla polizia. Dopo l'interrogatorio avvenuto nella giornata di ieri, il giudice per le indagini preliminari, infarinato, ha convalidato l'arresto di Elio Greco. Il magistrato ha ritenuto che potesse esserci pericolo di fuga dell'indagato.